ciao a tutti eccoci ad una nuova lezione oggi vediamo come modificare il comportamento dei keyframe ovvero come ammorbidirli innanzitutto come al solito creiamo una composizione quindi andiamo nel menu composition scegliamo new composition nei settings diamo innanzitutto il nome ammorbidimento keyframe diamo il solito preset hd 1080 25 fotogrammi al secondo la durata della composizione la lasciamo sempre 10 secondi 10 00 lo sfondo nero come al solito ok prendiamo come disegno da animare l'automobile la riduco a mano cliccando sul bordo trascinando e aggiungendo il tasto shift per non perdere le proporzioni la riduco parecchio perché voglio vederla muovere all'interno della composizione quindi la riduco questa dimensione la sposto sul lato sinistro della composizione nella timeline apro il contenuto del livello trovo la sezione transform apro la sezione transform e trovo le cinque proprietà di trasformazione bene io voglio fare un'animazione di questo tipo l'automobile parte da qui al tempo zero e in un paio di secondi raggiunge quest'altra zona della composizione lato opposto come abbiamo imparato nella lezione precedente bisogna innanzitutto mettere il cursore nel momento in cui vogliamo che l'animazione cominci cioè in questo caso al tempo zero poi stabilire dove si deve trovare l'oggetto che si vuole muovere in questo caso qui dove l'ho messa a questo punto bisogna fissare la posizione accendendo l'orologio della position clicco sull'orologio automaticamente si aggiunge il primo keyframe che memorizza la posizione dell'automobile al tempo zero e poi devo decidere quando termina l'animazione ho deciso che deve terminare a due secondi quindi prendo il cursore lo porto a due secondi me ne accorgo dal fatto che qua c'è scritto due secondi nel time code alla timeline benissimo a questo punto sposto l'automobile nella posizione finale e siccome voglio che vada dritta la sposto non a mano ma cliccando sul primo parametro della posizione trascinando affinché l'automobile non raggiunge la posizione che desideravo cioè qua a questo punto voglio fare la preview di questa animazione ma siccome non voglio vedere tutta quanto la durata della composizione prendo il margine destro della barra dell'area di lavoro della work area e lo trascino qui modo che l'intervallo della preview sia intorno alla durata dell'animazione faccio partire la preview cliccando sulla barra spaziatrice il movimento che l'automobile fa è proprio quello che volevo parte da sinistra arriva a destra però guardando bene attentamente questa animazione noto che quando l'automobile parte non accelera parte istantaneamente ad una velocità costante la mantiene per tutta la durata del tragitto e quando arriva nel punto dove si deve fermare si ferma istantaneamente cioè la velocità passa da un certo valore a zero istantaneamente ecco nella realtà questo non succederebbe cioè l'automobile nella realtà quando parte accelera prima di raggiungere una certa velocità e poi prima di fermarsi rallenta quindi vogliamo che anche questa animazione si comporti come si comporterebbe nella realtà quindi devo trasformare questi keyframe ammorbidendole si dice ovvero se io li seleziono tutte e due attenzione per selezionare tutti i keyframe posso fare in vari modi posso cliccare su un keyframe poi col tasto shift clicco anche sul secondo quindi entrambi sono attivi oppure per fare prima si può fare in questo modo clicco in un punto vicino e poi disegno un rettangolo a raggruppare entrambi i keyframe bene quando li ho entrambi selezionati tasto destro su uno dei due nel menu scendo la voce keyframe assistant e scelgo la voce easy ease notare intanto la scrocciatoia da tastiera f9 molto comoda attivo questa voce la forma dei keyframe adesso è cambiata prima erano dei quadrati adesso sono delle specie di x bene faccio ripartire la preview e vediamo qual è il comportamento ora si nota abbastanza bene che l'automobile quando parte non parte istantaneamente una velocità costante ma accelera e prima di fermarsi decelera ecco questo corrisponde all'ammorbidimento dei keyframe e questa operazione di ammorbidimento dei keyframe ora io l'ho fatta sulla proprietà position ma potrebbe essere necessaria anche per animazioni sulle proprietà scala e rotation prendiamo ad esempio un altro disegno eliminiamo questo disegno dalla composizione quindi seleziono il livello e per eliminarlo tasto punch il livello sparisce da qui ma ovviamente non sparisce dalla finestra di progetto prendiamo ad esempio quest'altro disegno il polipo ok questa volta voglio lavorare sulla scala quindi apro le proprietà cerco la scala voglio che al tempo zero il polipo sia grande scala zero quindi prendo il cursore del tempo lo porto al tempo zero porto il valore della scala al tempo zero questa volta scrivendo direttamente io il valore nelle proprietà accendo l'orologio e voglio che dopo circa un secondo quindi sposto il cursore avanti un secondo il polipo sia più grande per esempio così bene se faccio la preview faccio partire la barra spaziatrice nel momento in cui il polipo raggiunge la grandezza finale finisce istantaneamente di ingrandirsi vorrei che rallentasse quindi di nuovo come prima seleziono i due keyframe tasto destro su uno dei due keyframe assistant easy ease ricordiamoci questo f9 la prossima volta attiveremo l'easy ease con la f9 attivo i keyframe cambiano forma rivedo l'animazione forse non si nota tantissimo comunque c'è un rallentamento finale ecco magari aumentando la durata dell'animazione si nota di più benissimo proviamo adesso a fare un animazione sulla rotazione usiamo un altro disegno ancora eliminiamo questo prendiamo questa volta una stella marina ingrandiamola leggermente andiamo a cercare le proprietà in questo caso attenzione voglio fare due animazioni voglio che al tempo zero la stella sia piccola e dopo un secondo si ingrandisca e contemporaneamente faccia un giro completo quindi metto la scala al tempo zero con valore zero e accendo l'orologio della scala ma anche l'orologio della rotazione così faccio partire entrambe le animazioni sulle due proprietà poi avanzo a un secondo e innanzitutto ingrandisco la stella e poi le faccio fare un giro completo per farle fare un giro completo anziché cliccare trascinare sui gradi della rotazione contro z do direttamente il valore finale di un giro completo per cui la stella mentre si ingrandisce farà un giro completo questa volta i keyframe da ammorbidire sono quattro sia la scala sia la rotazione quindi li seleziono come ho fatto prima cliccando vicino a uno dei keyframe e poi con il mouse premuto disegno un rettangolo intorno a tutti e quattro i keyframe per selezionarli in un colpo solo a questo punto tasto destro su uno qualsiasi anzi no come avevo detto prima anziché passare da questo menu schiaccio il tasto f9 i keyframe si sono ammorbiditi rivediamo l'animazione rallentiamola un po di più magari in questo caso c'è un piccolo problema direi con la posizione dell'anchor point perché il centro coincide con questo contenitore quadrato che contiene la stella però l'anchor point stesso non è proprio al centro della stella questo è uno di quei casi in cui per spostare l'anchor point non posso farmi aiutare da questo diagramma perché anche se cliccassi al centro li rimarrebbe questo è il centro del livello che contiene la stella no questa volta devo andare lassù in cima negli strumenti prendere lo strumento per spostare l'anchor point a mano e cerco di metterlo ad occhio al centro delle punte della stella ecco forse così è meglio rivedo l'animazione ok adesso mi sembra un po più centrata questa rotazione bene diciamo che questa operazione la si fa quasi sempre praticamente è raro che non la si faccia che si lasciano i keyframe lineari per cui ci capiterà molto spesso di riattivarla anche nelle prossime lezioni quindi per questa lezione è tutto ci vediamo alla prossima ciao